Chiara chiara ma dove sei Chiara chiara ma mi ha trasportato anche a me ora ma dove siamo Esatto siamo in una cupola di vetro No duniziani allora ve l'ho detto io in questo vanilla non ci sto capendo più niente Fra l'altro potete entrare anche voi Basta che entrate nel discord in descrizione sotto E potete richiedere di entrare nel vanilla però dovete avere minecraft Diciamo java edition premium minecraft sul computer insomma avete capito Allora io veramente non ho parole questa sembra io da sotto l'ho vista prima ok E sembrava essere una nuvola chiara Ma che nuvola è mi? Cioè le nuvoli di me sono diverse Sì è una nuvola molto diversa però io non ti sto sentendo quindi parla forte Mannaggia Sto parlando forte Ok Tutto rovinato il microfono non è colpa mia Ok vabbè e comunque Chissà chi però in questi giorni l'ha usato Vabbè allora Ehm controlliamo un attimo questo libro Il prossimo libro Allora dice Tik Tok A parte Tik Tok Ho scritto proprio Tik Tok come si scrive l'applicazione Non so se sei presente Quella su cui io sono già famoso Il tempo scorre La maledizione si abbatterà sulle vostre povere teste Manca poco ormai Preparatevi mortali No 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 aspetta però questa cosa No 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 Dunisiani Perché ma perché devono succedere tutte queste cose? Allora io mi sto iniziando ad innervosire Che caspita Allora c'è sicuramente qualcuno in questo server Adesso non c'è nessuno perché siamo solo io e Chiara Però in questo server c'è sicuramente Dico sicuramente qualcuno che sta entrando e ci sta facendo queste cose Allora o è qualcuno Oppure è tipo come avevamo detto noi delle entità Comunque dei dei Chiara Io direi che dobbiamo scendere da qua Non è che possiamo stare in tutto il video A giocare alle carte di sto cavolo Quindi Adesso io direi di buttarci con l'acqua Sicuramente non nel fiume Perché purtroppo là è molto distante Certo che sei molto intelligente Complimenti Io avevo messo l'acqua No dunisiani io veramente non ho parole Cioè volevo cadere nella cascata di acqua E beh Mi sa che sì Troppo troppo però È un po' Le cose dove sono finite Vai prendi Io veramente Ma perché mi accompagno con questo tipo di persone dunisiani Cioè Perché io devo avere strane persone qua al mio fianco Al mio sedere Dai capita Sì capita Sì sì Allora Questa cosa dunisiani Io l'avevo già vista Un po' di giorni fa Ok Un po' di prima Prima di registrare questa cosa io l'avevo già vista È tipo come se la maledizione si stesse diffondendo Sul terreno normale Vedete che Ho fatto caso Eh lo so ma perché sei appena entrata Sei spagnata là sopra E quindi è Non so è così strano Cioè è appunto come se la maledizione si stesse espandendo E questa cosa è molto inquietante perché Si vede che è proprio come una maledizione vera e propria Dunisiani Esatto Come una malattia Come una malattia Però se non parli forte Eh allora Ok Ok Tutto ma proprio tutto Denis aiutami Chiara che succede? Aiuto È spaventato un colpo Come si chiama No Sì esatto Uno di quei maiali del nether Perché Oh mi dico No 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 Questi ci ammazza Chiara Chiara scappa Questi ci ammazza Allora dobbiamo Dobbiamo andare verso Ok perfetto Ce l'abbiamo fatta Allora Porca miseria Io stavo cuocendo il ferro Dunisiani Io sono La scorsa volta ho finito l'episodio in caverna E da lì non mi ero mosso Quindi sono venuto qua a piedi Finché Chiara stava entrando nel server Allora però Esatto Questo praticamente Dovevamo vedere questo Perché io da lontano lo vedevo Si vedeva anche dalla nuvola Allora praticamente Questo da quanto ho capito È un po' Un po' basta Perché sappiamo bene Che il tuo computer poverino Ha bisogno di Sì È un po' Sì Devi pensare Però allora praticamente Questa cosa Io ho visto Ma scusate Anche questo non è normale Cioè Non penso che ghiacciaio di minecraft Spawnino così No Assolutamente Io non ho mai visto Un ghiacciaio di minecraft Che spawna così Ma L'altra volta non c'era Quindi non è che Spawna così È esatto È appunto Brava Perché l'altra volta Cioè Eravamo appunto Nel server Non c'era questa grande cosa Sali nella barca Chiara Ok perfetto E adesso Se La logica Non è un'opinione Non so perché ho detto Questa cosa Ma fate finta In teoria Lassopra Come nelle altre Come nelle altre isole Quelle là Ci dovrebbe essere Una chest Con Con un libro Non so Spero se è un libro Perché Perché Io non so Sono brutte notizie Come sempre Sono Sì Sono brutte notizie Per forza Perché non è possibile Allora Io sinceramente Non ho nemmeno il coraggio Di salire qua sopra E come A parte come Caspita facciamo a salire Oddio Chiara ci siamo quasi Ok ok Brava brava Allora Firmato da Asterisco Asterisco No 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 Allora Qua c'è qualcosa di strano Di già Proprio Firmato da Asterisco Ma c'è mai stato Sta cosa Allora Allora Guarda un attimo Nella cassa Esatto Vedi È stata È stata disposta così Allora Questo è Ecco Ci sono 12 pezzi Allora A me sembra che Per il portale Ci vogliano 10 pezzi Giusto O 12 Non mi ricordo bene A quanto pare Qua troverai i materiali Che ti servono Per proteggerti Da loro Fate in fretta Vi resta poco tempo Ma che cosa No 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 Allora Facciamo così Visto che Sono chiaramente Delle minacce Queste qua Boh Direi di muoverci In fretta Cioè nel senso Se non in questo episodio Non nel prossimo Allora praticamente Quello che ci sta dicendo lui è Di andare No però io scusami Non è normale Questa cosa Cioè nel senso Scusami Allora Come è possibile Che un dio Non so di che tipo Una specie di dei Di cose strane Ci siano Stiano entrando In questo mondo Ci siano effettivamente In questo mondo Chiara buttati qua E poi Cioè come come sole È possibile questa cosa Già da qua Perché minecraft Non funziona così Non è che ci sono Dei Antichi Delle profondità Che ci ammazzano E c'è Esatto Brava Cioè non Non è mai successo Almeno per quanto Io ne sappia In minecraft Perché non è minecraft È un qualcosa di esterno Esatto Sai che può essere Ci ho pensato Anch'io Potrebbe essere Un qualcosa di esterno Tipo un programma Una specie di Boh Mi verrebbe da dire Hacker O comunque qualcosa Di questo tipo Beh abbiamo già avuto A che fare con invo Quindi Abbiamo già avuto Sì esatto Quindi tutto è possibile Ora che ci penso Sì esatto Non mi stupirei nemmeno io Allora Dovevo decidere Dove fare il portale Del nether Chiara Perché Ma Guarda Nella Come si è Nella forest Non mi ricordo Nella warped forest Esatto Anche secondo me Questa Potrebbe essere La scelta migliore Esatto Cavolo Che bello Questo portale Non so se No è bello Perché Allora Non prendere in giro È Cioè È praticamente Il primo passo Su minecraft No è uno dei primi passi Fare il portale del nether Allora Io direi Prima di tutto Di andare A scappare Da questi cosi Prima di tutto Scappiamo Veloce Nell'acqua Loro Fanno fatica Muoiono sempre Nell'acqua E infatti Poi sono stupidi Sono ciccioni Quindi Meglio così Allora No 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 Vedrai che Non fa niente No Sì Ma sono stupidi Adesso se Vedi che arrivano da noi Ci ammazzano Uccido io te Perché mi hai fatto dire cose Tipo No no Vedrai che ci uccidono Poi È tutta una mia logica strana Non rompere le palle Senti Allora Allora Beh oddio Sempre comunque Mi sembra un po' Un po' un'eresia Quello che hai detto Però No Ok Allora direi di farci L'armatura in ferro Però mannaggia a me E dico mannaggia a me Che non ho aspettato Cioè nel senso Non ho messo altro carbone Mi sono scordato Ma come Quindi adesso L'armatura in ferro Me la posso fare Solo io Giustamente E io Ho l'armatura Complata in ferro Ho osato Perché Chiara mia Se non ti sei resa conto Io sono andato in miniera La scorsa volta Mentre Mentre tu stavi facendo Altre cose Che non dico Cosa stavi facendo Perché sono cose Troppo sozione Brava Vedo che questo È lo spirito giusto Molto bene Brava Allora Chiara sei vecchia Non sai che La carne di zombie Non si può cuocere E non hai nemmeno La Optifine Sei proprio una boomer Però eh Fatelo dire Non è vero Sono molto più giovanile Di te Insomma Vabbè Ok Allora Se lo dici tu Allora Non sono io Quella che ha 18 anni Allora Prima di tutto Prima di tutto Io sono un tiktoker Quindi sono molto meno Boomer di te Vabbè Ma io pure Li faccio tiktok Però di nascosto Eh Perché Chiara si Si imbarazza tutta Eh sì Me ne frega qualcosa Che mi devi far vedere Una cosa E poi Che poi devi pure Tipo Dirli Cioè Tutto così no Cioè Bo Duniziano È sciocco basito Dal comportamento Dei video Di chiara Va bene Tranquillo Si vede che Proprio in colpa Proprio Tipo Scusami Allora Scusami Dennis Non volevo Giuro Ti immagini Scusami Ma che caspita Perché sta morendo Sto qua Vabbè Dobbiamo andare nel nether Comunque Quindi Vieni Non rompere Le palle Ai tizi Ai maialoni Vieni nel campo Se ti uccidono I burcelli Eh Non è che ti stanno uccidendo Ok vieni Vieni No se stanno Non è che stanno Arrivando pure loro Vero Chiara Non è che stanno Chiara Ho visto Stai attenta Magari No Tu cosa dici Siamo nel nether È un mammina Avvicino un attimo Il microfono Perché era tutto quanto Strano Messo in una posizione Molto strana Allora Ci stavo pensando io A questa cosa Però Vabbè Allora Ma io veramente Chiara La tua maleducazione È molto strana Allora però se vedete Dunisiani qua In questo nether Siamo spawnati Proprio in questo bioma Almeno confinante A questo bioma Molto bello Se devo dire Chiara Se tu vuoi Prendi del basalto Che questo Come no Preferisco il mio quarzo Vabbè Prendi anche il basalto Perché è molto bello Poi soprattutto fa dei suoni bellissimi Tipo sentite Dunisiani Oh Oh Che bello Cosa Non dai Anche questo Però Tipo Oh che bello Questo basalto Senti senti Che basaltone Ma che cosa Ma io veramente Ho scioccato Vabbè Hai sentito un gas Hai sentito un gas Proprio a bassa voce L'ha detto Dunisiani Ho sentito un gas Così è diversa È diversa la voce Non posso gridare Sì invece che puoi Vieni vicini È chiara Allora Me ne frega qualcosa Secondo te Che ti vengono A menare vicini Fanno bene Se ti menano Cos'è che hai detto Una brutta parola Io ho capito Ka pure Scusami Non è vero Oh Avrà laggato Sì sicuramente Secondo me Ho laggato Ma dove sei finita Ma che cosa Allora Cosa sta succedendo In questo video Poi Allora ti vedo Però in questo video Sta andando tutto quanto Male completamente Perché voi dovete sapere Io lo sapevo Sì ma perché voi dovete sapere Che mi sta raccontando anche No Non lo sta raccontando niente Mi stava raccontando Di quando era andata A Luna Park Cos'è che hai fatto A Luna Park Chiara dimmi un po' Perché devono saperlo Anche i tunisiani A questo punto Ho mangiato Hai mangiato E poi ti sei buttato Giù dalla giostra Come Ovviamente Cioè Una persona può essere Talmente intelligente Da buttarsi giù Da una giostra E per fortuna Non è morta Ma questa direi Che è una fortuna Completamente Fortunosa Chiara Infatti Quando gioco Dico Ma cosa sto facendo Non vedo niente È un po' Un problema Questo Se ci pensi Leggermente Qualcosa Vabbè Allora Io direi di andarcene via Ma scusa Domanda Chiara Secondo te Cosa intendeva Quel tizio Con Nel nether Troverete i materiali Di cui avete bisogno Ci sono già Ma non siamo neanche Diamante noi Eh esatto E questo è il punto La netherite Cioè nel senso Potrebbe essere anche Netherite Ora che ci penso Però Eh sì esatto Oppure Ah ma non è che Dobbiamo cambiare Le pepite d'oro Con questi Tipo Io vi do questa Grazia E voi Praticamente Voi in cambio Rispogliate il mondo No Non ho capito Niente di quello Che hai detto È stato molto Beh Allora Potrebbe essere Quello che hai detto tu Cioè nel senso Magari Cambiare Magari Magari Se 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 Ti Ti metto la spada nel sedere Che brutta cosa No 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 Mi sotterro mi sotterro mi sotterro mi sotterro Addio ciao No non cado non cado non cado non sono così stupido un pochino si però No vabbè dai allora adesso mi sotterro mi risotterro vabbè allora Duniziani scriviamoci la voce perché ovviamente molto importante questa cosa anche voi vi dovete scherire la voce insieme a me perché anche voi starete parlando insieme a duniz Esatto fate 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 anche voi È molto importante Sì È molto importante È molto importante questa Trovare diciamo quello che lui voleva cioè i materiali Quali materiali dobbiamo trovare cosa Quello che ha detto chiara che adesso ve lo traduco praticamente era che magari dobbiamo scambiare qualche oggetto come per esempio una pepita d'oro Con quello che ci offre lui Con quello che ci offre diciamo questo dio greco Dio di sto cavolo E quindi che io non so veramente che dio o dei più probabile perché come abbiamo visto chiara ci sono più dei a quanto pare in questo mondo Quelli che noi le chiamiamo dei ma sono più che altro entità cose quasi quasi demoniache E a parte la borbottanza di chiara Allora io sto gridando A quanto No è che adesso ti si sente poi dopo quando tu fai Non si sente più niente quindi Parla bene Io parlo In ogni momento grido Non mi interessa Allora io stavo pensando Dunisiani che Praticamente dovrebbe centrare da quel che ho capito con il tiktok mio Cioè pratica cosa intendo Perché se voi avete visto guardate qua ho di nuovo il tiktok Il book Il book Vabbè il libro Praticamente Qua c'è scritto tiktok Ma proprio scritto come l'applicazione tiktok Allora tiktok il tempo scorre Il tempo scorre nel senso vabbè che il tempo sta scorrendo Quindi abbiamo ancora poco tempo La maledizione si abbatterà sulle nostre cioè sulle nostre teste no Manca poco ormai Preparatevi mortali No praticamente esatto il cataclisma Ti ricordi tipo quella cosa del Allora prima di tutto è questa cosa importante chiara Quindi non prendere in giro il dio O i dei No dico seriamente perché è importante questa cosa Non mi sembra proprio una reazione Cioè nel senso noi abbiamo una specie di demone nel mondo E tu ridi non mi sembra proprio chiaro Cioè proprio bella come cosa Però Allora Praticamente questo mostro cos'è che dovrebbe fare Dovrebbe Tipo dovrebbe Per Allora Per segnare l'inizio della maledizione Diciamo Dovrebbe Scagliare un fulmine Perché ti ricordi la scorsa volta Nella Nella Eh esatto Nella Mi pare che era nel coso di Di Bedrock Tipo E Da quanto Vabbè Non farlo mai più nemmeno questo Perché Quel fu Perché è stato molto brutto Vabbè insomma Insomma il tuo microfono molto Cioè non mi sento io Si sente fu No ma più che altro È il tuo microfono che Ha fatto un po' strano Vabbè Ehm Comunque Doniziani Vabbè è stato Molto strano questo episodio Io non so cosa pensare Di questo Dio Io direi di ritornare indietro E di capire bene Quello che lui vuole dire Sto prendendo tanto Quarzo e Pepite d'oro Perché alla fine Ti servono quelli Esatto brava Prendi Prendi le pepite d'oro Prendi il quarzo E ficcatele su per il cu**o No No No